Musica Falciata sulla Caorsana, muore 19enne, tragedia nella notte, la giovane albanese è stata travolta da una moto, il conducente a un quarantenne piacentino è risultato positivo all'alcol test. Stella satanica in San Giuseppe Operaio, ignoti nella notte hanno disegnato un cerchio con all'interno una stella a 5 punte davanti alla chiesa e una croce rovesciata sulla parete esterna, indaga la polizia. Guardie mediche di Mezzate presentato alla conferenza sociosanitaria il bilancio dell'Ausl, investimenti per un nuovo laboratorio di cellule staminali. Carola Cassi è Miss Piacenza 2013, è una studentessa a 19enne di Sarmato, elette anche Miss Liceo Maura Lisa Maserati e Maria Antonietta Scaramella Miss Piacenza Social. Castellarquato 350 comparse per i Borgia, primo ciac nella piazza della Rocca Viscontea per una puntata della terza serie della fastosa fiction in onda su Sky. Cassano e Gervasoni ancora deferiti, calcio scommesse, nuovo provvedimento della Procura federale per i due ex Biancorossi.